Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 12 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo pesci. Domenica acquatico, scorpacciata di emozioni. Immaginatevi una domenica al lago o al mare, lo sguardo all'orizzonte, con il sole coperto all'improvviso dal volo di un gabbiano. Emozioni acquatiche dunque, sostenute dalla luna cancerina intrigono al vostro segno e al vostro governatore Nettuno, ospite fisso da una quindicina di anni o giù di lì. Acqua su acqua per voi, il vostro elemento, la fonte della salute, loa si dissetante del sentimento. Domenica magico le relazioni interpersonali, con il partner, i figli, i parenti, gli amici. Tutta gente alla quale siete attaccatissimi e che vi vuole di rimando un gran bene. Veloci e senza intoppi i viaggi, piacevolissime le escursioni, almeno quanto le ore di relax trascorse pigramente al sole, con la musica nelle orecchie. Unico neo i costi dei vostri svaghi, che per il piacere del lusso, che a volte vi solletica, oggi sono piuttosto salati, voi gourme della vita scegliete sempre il meglio. E la famiglia e la casa, il focolare e la fecondità. Un amore molto idealista, folle, un rapporto rocambolesco, un partner sognatore, di fantasia. E il consolidamento dell'immagine di moglie, madre, fidanzata, figlia. I single possono sperare in un amore improvviso e romanzesco, un'avventura mozzafiato. E giunta l'ora di prendere una decisione definitiva in merito a un problema di cuore, l'amore va vissuto a fondo e se questo non è possibile, meglio rivolgere lo sguardo altrove. Il vostro compagno si aspetta tanto da voi, che ne dite non sarà il caso di fargli un regalino, magari attraverso una dolce serata? In amore oggi, per i nati di giovedì, ci sono ottime occasioni da prendere al volo. Soprattutto i single. Le polemiche sono inutili se potete risolvere le questioni con diplomazia e con intelligenza. Non lasciate in ogni caso che gli altri prendano il sopravvento su di voi. Avrete una discreta tregua con alcune persone con cui avete rapporti tesi e vacillanti, alcune considerazioni che potreste fare alla loro presenza contribuiranno a determinare un clima più sereno. Oggi vi sentirete pigri e svogliati, ma non sarà colpa vostra. In effetti la mattinata sarà un po' noiosa e la serata non si preannuncia certo frizzante. Giornata mediocre, senza particolari avvenimenti di rilievo e interessanti. Lavorate di fantasia per cercare di cambiare le cose. Fate attenzione, l'idea di un salto nel buio, di un viaggio nell'ignoto sentimentale potrebbe essere fatale per voi. Cosa pensate che valga ciò che è successo negli ultimi giorni? Marte e Giove vi aiuteranno a trovare la forma giusta per risolvere un vostro problema d'amore. Ma niente grilli per la testa. Sentirete il calore di una persona amica che si stringerà a voi e cercherà di aiutarvi a venire fuori da un vostro problema. Saturno transita nel vostro segno insieme a Nettuno, pianeta del misticismo, vi pervade di questa necessità, proponendo un particolare stato d'animo di spiritualità e in certi casi di compassione. Nettuno e i pesci sono infatti componenti astrologici che possiamo definire mistici sulla ruota dello zodiaco. Una forte esigenza spirituale si impossessa di voi e vi fa vedere la realtà con occhi radicalmente diversi. Il mondo dei rapporti umani ne viene investito positivamente, facendovi guardare i vostri simili con un sentimento di comprensione che sfiora oggi una profonda religiosità. Magnifica la luna cancerina, signora dei sogni, delle intuizioni, della fantasia, perfetta per voi, in particolare se avete bimbi piccoli o una bella storia d'amore, appena abbozzata, ancora tutta da costruire. I problemi nel vostro caso sono soltanto pecuniari, sottolineati dal rosso di Marte in seconda casa, che fa il paio con quello dei vostri conti. Amore ed Eros. Partner, amici, figli, parenti, tutti intorno a voi, almeno in senso affettivo ma anche fisico, se avete riunito parecchia gente nella casa di campagna o se siete voi, invitati, ad andarli a trovare. In ogni caso sarà una giornata bellissima, all'insegna dei sentimenti e degli svaghi condivisi, ci sta anche un bel pranzetto. Il cibo cucinato con amore fa sempre bene, oltre che deliziare la vista e il palato. Riuscite a chiarire un equivoco imprevedibilmente sorto con la persona che avete accanto. L'amore è la fiamma della vostra vita, lo scoprite meglio in questa giornata e vi illuminerà sempre il cammino nei momenti di maggior difficoltà. L'afflato sentimentale che dimostrerete raro e impagabile. Lavoro e denaro Qualsiasi cosa abbiate in mente per far piacere alle persone amate, valutate che non sia troppo costosa, facendosi tornare alla memoria gli svaghi di qualche decennio fa o quelli riportati dai racconti di famiglia, troverete soluzioni piacevolissime che faranno felici tutti quanti senza spendere un centesimo. Qualche esempio. Un picnic sull'erba, un weekend nella natura in tenda con tragitto in Pullman, se piove una piacevolissima giornata domestica a pasticciare tutti insieme in cucina. Il vostro temperamento controcorrente è citato da un'importante impresa d'ordine professionale in cui intenderete misurarvi. Il sole vi infonde vero e proprio coraggio nel sapervi muovere con tutte le armi che questa iniziativa richiede. All'inizio procederete soli e spavaldi, le contrarietà non vi intimidiranno. In seguito ci sarà il supporto di chi, alle vostre ragioni e alle vostre legittime richieste, crederà davvero e vi sosterrà con tutto il suo vigore. Benessere In perfetta salute ma a una cena evitate di riempirvi il bicchiere più volte, specie se con i piatti speziati le gengive tendono a infiemmarsi facilmente. Chi ha la gola particolarmente delicata deve fare attenzione a come si veste, di giorno fa già caldo ma la sera è ancora fresca e con il meteo di maggio ancora variabile meglio premunirsi. La sapevano lunga che negli antichi calendari tra il 10 e il 15 celebravano i santi del ghiaccio, segno di calo di temperature. Per lei, decisioniste negli acquisti, specie quelli pazzi, ma lente ed estremamente insicure quando si tratta di scelte esistenziali, stoppa al consumismo, è ora di puntare all'essere e non all'avere. Per lui, ecologisti convinti, vi battete per la salute dell'ambiente, messo a dura prova da interessi economici e persone irresponsabili. Inutile polemizzare, serve solo a sfogarsi, meglio agire. E subito. Colore delle emozioni, rosa tea. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 8, finanze, 8, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.